Come previsto, alla vigilia del primo maggio sono scattate le due squalifiche nel Montevarchi. Si allunga di conseguenza la lista degli indisponibili per la gara di domenica con la Massese al Brilliperi, decisiva per sancire la partecipazione degli Aquilotti ai play-off campionato. Alle defezioni di lungo corso di regoli, frati e lischi, si aggiungono dunque quelle del difensore Alessio Zini e soprattutto di Adnane Sussi, il canoniere più prolifico della squadra, con 15 reti all'attivo. Il Montevarchi intanto, parlando di play-off, si gioca all'ultimo posto utile con la possibilità anche di migliorarlo se supererà gli Apuani già retrocessi, mentre il Sandonato, un punto dietro il Valdarnese, andrà a Trestine al Giviborgo. Staccato le due lunghezze, riceverà il Gavorrano. Questo il quadro dunque evidente che Mannella e compagni dovranno raccogliere le residue energie, specialmente mentali, per piegare la Massese. Si affideranno al sostegno del pubblico in attacco a 99 e Cristiano Dami, rientrato da poco dopo un infortunio, ragazzo generoso e che già lo scorso anno timbrò due volte il tabellino in Serie D. Al suo fianco Masini è nel ruolo di rifinitore di Arrasuba o il 2000 Mosti Falconi, prodotto genuino del vivaio rosso-blu.